Grazie, grazie. Tutto bene? No, bene, insomma, vogliamo ringraziare tutti voi per l'accoglienza, insomma, volevo salutare tutta la gente qui presente, insomma, Darfo ci ha accolto in un modo splendido, noi ci stiamo allenando bene, mi auguro, insomma, siamo fiduciosi, c'è grande speranza, si lavora tanto, ma il ritiro è così, per cui, insomma, volevo portare ringraziamenti, un saluto a tutti voi e speriamo che Darfo... Porti bene. Come sempre. Porterà sicuramente. Allora, Pippo è un grande campione, sappiamo benissimo la sua grande carriera, tu duro papà, gli ho fatto un applauso, diventerà papà. Era ora. Era ora. E una cosa mi ha colpito moltissimo di Pippo in questi giorni, quando gli ho chiesto, ma tu fai le foto praticamente con tutti, e lui veramente è disponibile con tutti quelli che incontra per la vita, la strada, o mentre va agli allenamenti, o li trova sulla strada, lui dice, anche io quando ero ragazzino, eh, facevo così, perché io non lo posso fare. Quindi questo è un segno di grande unità, Pippo, che ti rende veramente buono. Grazie, grazie. Bene, lasciamo Pippo...